A Castellaneta un bel pomeriggio di riflessione e impegno. Alle officine Mercato Comunale hanno dato prestigio all'evento il Vescovo Monsignor Sabino Iannuzzi e l'Arcivescovo di Scutari Monsignor Angelo Massafra, ma anche l'Onorevole Domenico Malfitano, già sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione. Alla presentazione del volume di Tonino Ottomanelli c'è un folto pubblico di cittadini e rappresentanti istituzionali che hanno conosciuto e apprezzato la sua opera. 1969-2019, 50 anni della comunità all'incontro, 5 decenni di solidarietà effettiva che ci parlano dell'aiuto ai fratelli albanesi e del sostegno sociosanitario a Pugliesi e Salentini. Oggi siamo in una situazione in cui necessita anche con urgenza la capacità di saper far rete tra le diverse entità che sono impegnate nel territorio ad evidenziare quelli che sono i valori fondamentali, anzitutto della persona umana, a tutelarla in modo particolare e soprattutto ad avere la capacità di saper rendere diffusiva l'esperienza dell'amore. Siamo nel 2023, la società sicuramente è cambiata, l'esperienza della comunità itinerante all'incontro però è sempre viva, anzi rilancia con nuove sfide. Ed è importante non soltanto godere e riconoscere il bene fatto grazie a Dio, agli amici, a tutto ciò che il Signore ci ha ispirato, ma soprattutto metterci di impegno perché è possibile avere un mondo migliore, è possibile, è nelle nostre mani. Dio ha messo nelle nostre mani, nelle mani dell'umanità, di abbellire, di migliorare il mondo. L'incontro ha una funzione che oggi si direbbe l'espressione di una società civile che non può non facilitare per coloro i quali hanno l'intenzione di farlo quello che è la cura e il ruolo della politica. La politica non può risolvere se non ha la collaborazione, la capacità di intercettare, di essere aiutata ad incertare i bisogni della società civile. Nel corso della manifestazione ringraziamento di quanti hanno accompagnato nei vari settori di competenza la comunità all'incontro. Il caso del nostro direttore editoriale Walter Baldacconi. È un'esperienza da replicare soprattutto in un momento storico particolare e quindi deve servire da stimolo e d'augurio perché in questo momento di ipersensibilità credo che questo tipo di esperienze debbano essere quelle che poi rafforzano il fatto di essere una comunità e di essere umani. Noi possiamo dire, senza tema di smendita, che la nostra comunità, e nel libro C'è la testimonianza, siamo stati persone di toleranza, di solidarietà. Nel corso dell'evento vi è stata anche la presentazione del progetto della sede del nuovo centro sociosanitario.